I rischi, le conseguenze e gli effetti della guida in stato di ebrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma anche le attività di prevenzione e repressione di un fenomeno purtroppo assai diffuso anche sul territorio di Sciacca e più in generale nell'Agrigentino, in linea con l'incidenza del fenomeno a livello nazionale. È stato questo il tema affrontato stamattina nell'aula magna dell'Istituto di Via Nenni del Don Michele Arena attraverso l'intervento del relatore, il dottore Gaspare Liuzza, comandante della Polizia Stradale di Sciacca. Un ulteriore momento di un più vasto progetto sulla prevenzione delle dipendenze da alcol e droga portato avanti dalla scuola guidata dalla dirigente Daniela Rizzuto. Si iscrive in un progetto più ampio, il progetto relativo proprio alle dipendenze, le dipendenze in senso lato, quindi non solo quelle classiche da alcol e droga e così via, ma anche altri aspetti che sono talvolta meno curati. Ha coinvolto tutte le terze del nostro istituto, il nostro istituto costa di quattro plessi, il plesso di Via Nenni, il plesso di Via Miraglia, il plesso di Menfi e il plesso di Via Giotto ed è stato molto ben accetto dai ragazzi che hanno fatto questo progetto avendo anche delle ricadute sul curriculum. Professoressa Cantone, sono tante le attività inserite in questo percorso. Oggi l'incontro con un dirigente della Polizia Stradale. Esatto, con il dirigente Liuzza che illustrerà quelli che sono i pericoli che i ragazzi o tutti noi possiamo incontrare per le strade, specialmente se sono sotto effetto di alcol o di qualsiasi altro tipo di droga, che potrebbe portare anche alla morte, come è successo spesso. Un'attività di prevenzione in tema di dipendenze attraverso la quale la scuola, intesa come agenzia educativa, intende trasmettere agli studenti informazioni e conoscenze per riconoscere, ricercare e adottare comportamenti responsabili. La scuola dal punto di vista proprio formativo è la prima agenzia, ragione per cui è un imperativo morale formare i nuovi cittadini del domani. E siccome i nuovi cittadini del domani devono essere scevri, liberi dalle dipendenze, ma essere in grado di autodeterminarsi, è un lavoro che la scuola porta avanti sin dai gradi inferiori fino ad arrivare ai più grandicelli, perché è importante che i ragazzi escano a 18 anni o nel mondo del lavoro o dell'università con una mentalità che sia in grado di scegliere autonomamente senza dipendenze in senso lato. Abbiamo parlato di alcol e droga, questo alcol e droga è proprio un argomento che colpisce il ragazzo, il ragazzo della mia età. L'alcol e la droga sono due mostri veramente che uccidono un ragazzo. Oggi si parlerà soprattutto dei rischi legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti. C'è da parte vostra la consapevolezza dei pericoli che si corrono quando ci si mette alla guida di una macchina o di un motore sotto effetto di alcol o droga? Allora, noi siamo ragazzini, quindi diciamo che i pericoli un'alzione lo facciamo e poi non sappiamo quali sono i pericoli. Sì, certi ragazzi li capiscono e veramente non si può guidare con l'effetto di stupefacenti e soprattutto di alcol. Sono perfettamente consapevole e sono grato che oggi qui hanno fatto questa sensibilizzazione per quanto riguarda questo argomento perché nel 2023 ancora ci sono alcuni casi di questo genere quindi è importante sensibilizzare questo argomento. Quanto sono importanti secondo te queste campagne di sensibilizzazione nelle scuole che sono rivolte proprio a voi? Molto, le dovremmo fare molto spesso.